no 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 buonasera ragazzoli buonasera allora secondo voi onesti però sinceramente questo di maria lo sta facendo apposta o no cioè pure se io ci penso no non lo so ragazzi è finito il mondiale non ha più come si dice quella paura che ha di farsi male no diciamo prima aveva la scusante di giocare il mondiale si infortunava e allora ok non lo voglio difendere perché onestamente giocatori come di maria paretes non mi sono entrati nel cuore perché fin quando non lottano per la juve e non mi fanno vedere che realmente ci tengono la juve non mi stanno particolarmente nel cuore e non mi sono entrati e mai mi entreranno se continuano così però non lo so il fatto che di maria non sia stato convocato per cremona io penso che sia una scelta per me è di allegri secondo me per farlo giocare poi a napoli titolare per come la penso io per fargli giocare venti minuti con con chi è con l'udinese che sarò allo juventus stadio mi ricordo sabato 7 gennaio per chi vuole curva sud seconda nel sarò a torino raga secondo me a cremona quelli bastano avanzano secondo allegri giusto perché poi ripeto non ha senso c'è non questa cosa che sta facendo non ha senso non tener letteralmente senso questa cosa non ha senso questa cosa credetemi io non lo so non sto qua a fare mille video come fanno pezzo di merda mai mai una cosa del genere perché giustamente se l'infortunio è vero lo sanno solo loro e lo cazzo è anche vero hai vinto un mondiale al mio del mondo ti fai male alla coscia destra è vero che poi al mondiale di maria ha saltato quattro partite quindi tutto può essere cioè di maria le ha saltate le altre partite quindi vuoi o non vuoi può darsi che il ragazzo è diventato fragile così all'improvviso e vabbè è sfortuna è sfortuna però d'altronde è ancora un giocatore della juventus fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ma io vi saluto buonanotte e fino alla fine forza io sempre sempre iscrivetevi al canale non costo un ca va giù mi piangete anche l'iscrizione veramente cioè io è possibile devo fare ogni video di ripetervi di iscrivervi al canale cazzo mancano 14 15 iscritti arriviamo a 6.000 iscriviamoci a questo canale facciamo le femmine serie ciao belli grazie 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 grazie